Siamo con Simone Sabbioni, Redi Riccione, raccontaci questa prestazione del 50 a dorso. Ma dai, è stato un bel 50, sono partito moderato, poi ho accelerato fino ad arrivare a Porte, entusiasmante. Vi ringrazio sui miei channel per questa opportunità, un bacio a Corri. Ma così ti vogliamo troppo bene alla fine. Ti chiedo di spegnere un attimo, Rega. Sei mitico!